25 millesimi bastardo no bravissimo bravissimo mamma mia che tempo no si aspetta la macchina sono partito con la retromarcia sei in gala si ma mi sono girato vabbè recuperiamo abbiamo dieci giri eh ma il drs quando vuoi e dove vuoi qua forse è normale usarlo sono il secondo che ce l'ho toccato pure no ma penso altre cinque posizioni a few minutes later aspetta 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 posso passare ma no vai tanto per lo stesso no ma mi tappo no cazzo no ma mi tappo no cazzo senza bs di frenare a 150 metri qua bisogna abbassare la potenza frenante secondo me si me l'ha dato si me l'ha dato infatti ne ho tre dai barocchi non ti devo aspettare non 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 Grazie a tutti. A few moments later. E' venuto a cercarmi all'ultima curva, a farmi girare, ma glielo ho messo a c***o. Mamma mia che recupero ragazzi, che recupero ragazzi, mamma mia.